Uno dei siti storici di Fano più importanti sta per vivere un nuovo corso della sua storia. La rocca malattestiana, che già in passato era stato un affascinante scenario di eventi e manifestazioni estive nel cortile interno, ma che non poteva esprimere totalmente il suo potenziale, data la scarsa capienza possibile per l'assenza di un'uscita di sicurezza che limitava le presenze a meno di 90 persone. Ora, dopo i lavori, sarà il contenitore d'elezione per eventi culturali, di spettacolo e ricreativi, con capienze che possono arrivare anche a mille persone. Sfruttando intelligentemente una già esistente uscita nella parte posteriore, poi murata successivamente, rinvenuta grazie alla pulitura delle erbacce infestanti dalle mure esterne, è stata creata ad hoc una scala di sicurezza esterna e presto un'interna vedrà la luce. Il tutto creato dai tecnici del comune ed in stretto contatto con la soprintendenza dei beni monumentali. Quindi una grande struttura non solo per Fano, credo che abbia un rilievo anche territoriale, e poi il bando che abbiamo emesso circa una settimana fa, un bando di gara internazionale, per cui si cercano figure imprenditoriali che abbiano a che fare con lo spettacolo, la cultura, ma anche la ristorazione perché ci è previsto un bar all'interno, quindi una serie di comfort, per gestire questo monumento tutto l'anno. Una sala superiore per 100 posti che possa assolvere anche quando non c'è la buona stagione un ricovero per iniziative, mostre. Quindi un grande contenitore culturale. Io credo il modo migliore per salvare i monumenti sia quello che abbiamo interpretato sia per il bastione sangallo che per la rocca malatestiana. Quindi l'uso, sostanzialmente immaginare l'uso. Altri lavori però attendono di essere ultimati prima di aprire il portone, come l'ascensore esterno che permetterà l'accesso alle sale superiori a chi ha una mobilità ridotta e fa uso di carrozzine, e trovare anche chi gestirà durante tutto l'anno questo luogo, compreso il bar interno, attraverso un bando di concorso che scade il 9 maggio, consultabile sul sito del Comune di Fano, alla voce Bandi e Concorsi.